I concerti dell'estate musicale frentana tornano nella piazza d'armi delle torri montanare, un investimento di circa 50 mila euro per le casse del comune, che aveva preso l'impegno di adeguare alla normativa attuale la sicurezza del complesso monumentale che ospita i concerti clou della manifestazione culturale più longeva della città. 450 posti, sedie rosse e ignifughe, palco rimesso a nuovo con pannelli bianchi in policarbonato, rifatti i quadri elettrici e sistemati 12 presidi di antincendio. Un lavoro congiunto tra le assessorate ai lavori pubblici, culture e attività produttive, l'assessore Francesca Caporale. Martina si è riunita la commissione pubblico spettacolo, alla quale hanno partecipato sia tecnici interni che i nostri tecnici comunali, quale l'architetto Carosella, e quindi grazie al lavoro di collaborazione tra l'assessorato al commercio, la cultura e i lavori pubblici è stato possibile raggiungere questo storico risultato. A partire da oggi, con delle semplici prescrizioni che saranno a carico degli organizzatori, semplicemente sulla gestione della sicurezza, le torri montanare sono agibili a tempo indeterminato per 450 spettatori seduti e quindi sarà possibile realizzare spettacoli con un pubblico stabile, quindi non soltanto musica classica, ma anche concerti, proiezioni di film o spettacoli di danza. È un risultato per noi molto importante perché comunque le torri montanare diventeranno, assieme a tutte le altre strutture, un centro nevralgico per la cultura della città.